Se ti dico Emilio è meglio, VHS Festival Bar, cosa ti viene in mente? Io sono Silvia Rossi e da oggi potete ascoltare Tribù, un podcast voice che racconta l'universo culturale degli anni 90 attraverso le voci di chi quegli anni li ha vissuti al massimo. Proveremo a capire se la generazione Z ha davvero qualcosa da imparare o solo da insegnare, ma soprattutto a rispondere alla grande domanda del decennio. Chi ha ucciso l'uomo ragno? Cerca Tribù nella tua app di podcast preferita. Come hanno detto gli Arcade Boys, questa lista di brani in tendenza sembra il palinsesto di Ray Gulp. Ed è vero ragazzi, è arrivata Luna, eh sì! Partiamo dal presupposto che a me Luna piace come cantante, ha solo 17 anni adesso e ha dimostrato di avere le palle quadrate a X Factor, a 16 anni non è facile fare il percorso che ha fatto, grande personalità, diventerà una gragnocca e carina già adesso, so che è piccola ovviamente, minorenne, quindi insomma che posso mettermi a lodare. Infatti, caro Jake e chi c'è dietro, come vi è venuto in mente di fare il pezzo Donna domani con Caglia Rodriguez vestita in quelle condizioni. Partiamo dal presupposto che a me Caglia Rodriguez fa impazzire, cioè per veramente ragazzi Caglia Rodriguez per me è intoccabile, cioè per quanto mi piace mi piace pure la sua musica, ho detto tutto. Cioè proprio io la seguo su Instagram, mi vedo tutte le storie, sono proprio una groupie di Caglia Rodriguez, per quanto mi fa sangue proprio. E quella voce, quell'atteggiamento, io sono proprio lì. La criticherò musicalmente se si dovrà fare, lo farò, però c'ho un debole per Caglia Rodriguez, così come ce l'ho per Nicki Minaj. Però insomma la Caglia è un po' più vicina, e se un giorno dovessi avere un contratto discografico a livello musicale e del budget per i fit, chiamerei subito Caglia Rodriguez e vorrei fare un video in stile 6ix9ine con la Nicki, capito? Io che faccio il matto, lei che mi lancia il latte addosso. Stai cazzate qua? Mezza nuda. Ma Jake, ma come ti è venuto in mente a farla fare a Luna? Che Luna, nel senso, che gli volevi dare? Il senso di sporco, di perverso, una ragazzina di 16 anni? Siete dei maiali, ok? Siete dei porci. Io ho capito benissimo cosa volevate fare con quel video. e fortunatamente a livello commerciale non ha funzionato più di tanto. La canzone era pure carina per essere una canzone pop, per essere una ragazzina di 16 anni, insomma. Però, che cosa avete voluto fare? Vabbè, giustamente ci siamo ripresi dopo X-Factor. Queste hanno provato a rilanciarle in ogni modo, hanno in grado di scrivere in testo, interpreta, insomma, funziona fino a che è una bambina e quindi hanno cercato di spingerla con singoli su singoli. Hanno pure aspettato un po' troppo. Secondo me, ho visto su Instagram che ha cercato di pomparsi un pochino, facendo delle prove, delle cose, ma la Luna era in decadenza. Allora dicono, rilanciamola. Per rilanciarla gli hanno fatto fare un pezzo relativamente serio. Io, di questo pezzo, è serio. Non stiamo a parlare di Lonely People e Lennon Rugby dei Beatles, eh. Proprio. Cioè, no, no. Serio, sempre per una fanbase dai 13 ai 17. I 18 non glielo so. Ma quello che mi rompe le scatole di questo brano non è tanto lei che alla fine, ripeto, 16 anni, se la canticchia, c'ha quel modo, c'ha quel fare, eppure una ragazzina carina diventerà una bella fighetta, la devono pompare. No, quello che mi caga il cazzo è quell'imbecille là che non voglio sapere come si chiamano, li imparo i nomi di sta gente, che fa la strofetta rap. Ma vergognati! Ma come si può sfruttare il rap? Ho visto controllato uno youtuber, il solito bastardo. Da oggi è facile, è facile, basta fare la voce un po' impostata. Yeah, hai, ok. Sì, sì. Sono qui, ti vedo, son figo, sei bella? Oh, io... E no, no, non va bene così, che poi ti coglie tutti un... Son figo, sei bella? Hai fatto la hit del cazzo? Con questi qui? No, 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 no. Non mi toccate il rap così. Io accetto tante cose, mi faccio andare bene un sacco di cose. Convivo in un mondo che ha preso quello per cui sarei morto, ovvero il rap, e lo ha trasformato in un qualcosa che mi si stringe il cuore, ok? Che se lo sapevo col cazzo che da ragazzino andavo con i pantaloni calati a dire l'hip hop, l'hip hop, l'hip hop, l'hip hop, sulle mani per l'hip hop, vive il rap per l'hip hop, se sapevo che poi succedeva quello che è successo. E come me tanti altri, tra cui sono sicuro che appoggerebbe questo discorso il grande Inokines. e invece no. Cioè, ragazzi, voi perché dobbiamo sempre metterci il rap in ogni cosa? Etichette bastarde. Come al solito è colpa delle major. Major bastarde. Vergognatevi. Mi avete anche bannato il podcast per un artwork. Perché? Perché ho detto che voi plagiate le canzoni senza plagiarle. Ed è la verità. E questo è un'altra... Che cos'è questa canzone qua? Che cos'è? Una versione mezza donna, mezza uomo di Parole di Ghiaccio? Siamo tornati indietro di sette anni. Volete fare questo? Questo state cercando di combinarci? State riportando questo qui che rappa in stile Fedez 2012? Capito? Neanche mischi. La Parole di Ghiaccio è un complimentone. Perché è un pezzone quello. Vergognatevi. Major. State sfruttando l'hip hop. State trasformando gli youtuber in rapper. Ok? Io ancora rispetto questa merda. E infatti io voglio fare solo rap. Non canto più. Canto più un cazzo. Basta. Luna. Va bene. Io ti auguro tante belle cose. Anche se onestamente quando penso a te penso che avrei proprio un brutto futuro. Una che ci è successo a 16 anni come interprete. Secondo me insomma non sarà facile per te la crescita. Non sarà facile un domani. quindi io ti porto nel cuore e ti do un consiglio. Inizia ad andare da un bravo psicologo perché non so la tua vita privata ma sicuramente ne hai bisogno.